Guardate un porco cosa può fare dopo la panighina, è terribile. Magno con una Nutella. Guardate, è proprio vero. Nutella e Magno. Non si vede la M coperta. Forse non ci crederete ma è proprio vero. Guardate, è del baghino solitario. Guardate questo codino molto fashion. Guardate. No, guardate, ho già smesso di fare il video. C'è anche un po' di coac qui. E però continua, continua. Continua interterrito. Non si ferma, è una cosa incredibile. Guardate come può godere. È una cosa incredibile. Non si prende solo questa Nutella. Si, se continua a fare il video, però su YouTube si viene. Non è un video. O, no. Alla tre della mattina non è un cazzo da fare senza fare dei video. Grazie.